Signori, siamo tornati su Pummel Party in compagnia nostra, Leo e Bertra Siamo tornati, Samir Comunque, Leo, sai perché stiamo registrando ancora su Pummel Party? Perché sono sempre a Milano No! Uh, uh, la so, la so, la so Vai Bertra, la sai per caso? Andovini con una? Dillo tu, dillo tu se lo sai Dovete cacciare un video in fretta No! No! Vedi che non sei preparato È un placement Esatto! Lo sapevo! È il bello È che a loro non glielo diciamo mai Lo scoprono in diretta Il video di oggi è offerto da Rise of Kingdoms Che cos'è Rise of Kingdoms? È un gioco di strategia in tempo reale caratterizzato dall'assoluta libertà di azione Ovviamente è un gioco gratuito per smartphone Aperto il gioco potremo Aspetta, la so, la so, la so, la so 11 civiltà diverse Potremmo scegliere tra 11 civiltà diverse E ovviamente sceglierai? Roma Semplicemente Tutti d'accordo, eh? Ad ogni modo Il nostro esercito al momento è guidato da Scipione l'africano Che mi ispira fiducia Perché dopo le guerre puniche Diciamo che si è comporato bene Io voglio Scipione l'africano che fa tipo come Salt Bay Che fa così sulle città Ah, col sale Ogni generale è caratterizzato dai talenti e dalle abilità Le abilità sono quelle che poi sfoggerà in combattimento I talenti sono la sua abilità di leadership dell'esercito Di conquista o di attacco Ma il nostro obiettivo non è Scipione Ebbene sì, è Giulio Cesare Spoiler Ho raccoltellato Dal figlio Ok, abbiamo dei barbari vicino al villaggio Direi che è il caso di fare un attacco Come vedi questa è la mia strategia camper In cui non uso solamente Scipione Ma uso tre generali contemporaneamente da tutti i fronti Così riesco pure a battere l'orzo che c'hanno in mezzo ai barbari Ma che manca solo che lanci una bomba atomica Ah, ecco L'hanno appena fatto Eh, ho le catapulte infocate Le ho un po' potenziate C'è qualcosa che non va Con l'uranio le potenziate Questa è la mia alleanza 17S Voglio dargli un nome Diciassettesima legione Visto che siamo romani E io sono Imperatore Spawn Se volete joinarvi vi invito Se vi piace il competitivo C'è anche la Lega di Osiride Dove potrete affrontare le migliori alleanze del server E dimostrare di essere i migliori Oppure fare un botto schifo E capire di non essere per nulla i migliori La Lega di Osiride è un po' un test Oh raga sono fortissimo a uccidere i barbari Raga miglior giocatore di questo gioco Vai in competitivo dai dai Poi ne riparliamo Potete scaricare il gioco gratuitamente con il link in descrizione Funziona su iOS e Android Usando il codice ROMISIAR Potrete ottenere 500 gemme Detto questo noi torniamo su Pammelparty Ok rieccoci Partiamo? Partiamo Let's go Oh creepy Tiro il dado 9 Eh ciao Zero Ah che cazzo ridi Raga io ho fatto zero e vado per secondo eh non vorrei dire Raga ma è una mappa horror o siamo finiti a Chernobyl? Allora Bertra se vai a sinistra hai già preso il trofeo Ma non posso Mannaggia Che peccato mi ha fatto scherzo il gioco No un secondo Cosa? Spawn second Kiro il dado camper Il mio zero vale più del tuo Giovanni Da che parte? Dovete uscire il cuore Dalla zombie direi che è molto carino Ah è Leo che vale meno della merda Eh Leo che vale meno di tutti Ah Vabbè nove Ma quanto piotta fermatelo Ma è già arrivato in sostanza È lì è lì Si era quella Giovanni Si Si No 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 Volevo solo controllare ed essere sicuro Mi piglio il mio tesoretto che c'è anche qua Tanto non hai le chiavi L'alveare Anti camper Perfetto Sette Scusi permesso scusi Scusi Permesso sono quel del esso Bravo Pio ti schiaffi nei denti Nooo Ok Che significa Perché è andato nella foresta quel camion? Non farti domande Letteramente è passato solo per investirmi Poi se ne è andato Esatto Il nostro gioco preferito Leo Vai vai Adoro essere colpito con le palle Si traiarda Andrea è in modalità silenzio e sudorino con l'asciugamano Con la pezzetta Leo ha deciso di togliersi la vita Porco ho lagato e sono andato giù Ho lagato e sono andato dritto per dritto giù Guarda come doggio tutto Cadi Cadi Ma guarda come tryhard Andrea Camper sono più grosso di te Vabbè No Sono più grosso di te 025 Perché siamo a testa in giù No Buttalo giù quello Ah No dai voglio buttarlo giù Raga sono un campione Ma sono un campione Fettente Metti via quel controller Vabbè col pad Tutti capaci Ah se lo dici tu Aia ma perché sono sempre il primo Vai Gio va Teamiamolo Teamiamolo Io sono scaricissimo La terza volta Volevo farmi gli affari miei Non abbiamo teammato Vai giù Raga 3 su 3 L'intervento sarà contro di te Perché fai forse il contrario di solito Madonna Oh no piano 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 Camper Era un dissing Se non si fosse capito Era un dissing Dello zombie Oh quello sono io Oh questo Non mi piace No quello ti da La sua mannaia Così puoi ucciderci più facilmente Secondo me Dici Ti fa il regalino Vedi che c'è lo sguardo Di chi ti ama Allora vado a toccarlo sensualmente Ragazzi Gobi Wuhuu Vieni a toccarmi Tocca mi Tocca mi Ah letteralmente proprio Mi sei davanti È il take away Sono di Deliveroo Buongiorno Io non ho getti Ah Devo vincere questo round assolutamente Ehi No no signore L'aspetto Ah 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 What Va bene Modesto Grazie Anche a te piace perché gli FC E là Ciao sono anch'io qui Buonasera ragazzi Salto Laser Ok io riparlo tra tre minuti perché tra iardo Ok A dopo Raga L'intrattenimento è il gioco in questo momento e non il parlato perché Ah perché c'è un intrattenimento no no scusate questo Ci giochiamo la carriera su questo gioco Le palle ci giochiamo Ma la musica quanto casa? La musica è proprio da sala giochi anni novanta Voi avete la musica eh? Hai tolto pure quella per tra iardo a revendio? Hai tolto pure quella? Hai tolto pure quella? Tonna leo Oh 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 ho sburfato Io mi son suicidato non so perché Non so come mi sia salvato Porco cane Cazzo Che cos'è sta roba? Che cosa cazzo è? Ma cos'era? Dai drago come hai fatto a non schivarlo? Cazzi Se hai le palle apri il regalo Certo che apri il regalo Basta fine gioco Oro Cosa? Noo Dai ha già vinto Non hai le chiavi? Non hai le chiavi? Ah che peccato non hai le chiavi? Vabbè io tiro il dado Due Due Cosa fai apri o ignori? Potrei prenderlo Ma non voglio far finire subito il video Perché siamo a neanche dieci minuti Tanto placement tranquillo Che cosa c'ho? Nell'inventario La palla La palla Spero colpisca anche te mentre prende anche me Così Lo scopriamo dai Oh 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 Sono ancora vivo Sono ancora vivo Ha uno di vita Allora De qua dove si va? Verso il mob E se andassi Di qua? C'è sta niente E' finita la mappa Andrea è finita la mappa Non è open world Ah ma c'è un anima anche qui Mmmmm Chiavi chiavi Voglio le chiavi 8 Perché fate il mio stesso giro? Si può sapere Andate verso il mostro Io devo andare avvicino ad Andrea Perché devo aspettare di prendere il pugnetto Uhuh Io me lo vado di qua Mi sa che c'era con me Dici? Si Dai 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 Nooo Nooo Bravo Mino Cos'è sta roba? Cos'è? Questo è quello di guardlan tipo in cui devi tipo sparare coi piombini ai barattoli che sono troppo pesanti e non vanno giù comunque Ah è quello su cui ogni volta perdo 50 euro per avere un cazzo di peluche da 1 euro e 50? Madonna quanto trigger Come è slow? Eh è in base a chi lo colpisce prima Nooo Mi sono sparato Porca puttana se non mi danno almeno una ciambella di quelle giganti Ma è bellissimo sto gioco Io ci faccio un video intero su questo Nooo sono un cazzone Sono lento sono lentissimo Excellent mandato Oh 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 guardanand Prezzemolo E seghe Non era l'intro di guardanand Io ho la reaction da Apix Ah beh Io ho la reaction da Call of Duty Mv2 con tre tacche Io ho la reaction da Wow è incredibile questa prima partita di ninja su Fortnite Wow ma come? Vai verso il mostro? Sì Te l'ho detto io ho un rapporto molto romantico con lui Allora 7 La misura massima di ogni cosa Da sta parte Ma perché Cambridge giochi al contrario? Vabbè avrà la sua tecnica Fai 1 Fai 1 Fai 1 Fai 1 Fai 1 Beh vabbè ha fatto 8 Scappa pure non ci posso credere E va anche verso l'anima Ah ma non ha le chiavi di nuovo Codo come un maiale No dai ragazzi Vabbè vabbè Io ci vado Ci vado per la scienza Ti piange il cuore Raga sarei a tre trofei Se costasse meno prenderli E il mostro dove va? Oh vado a Giovanni Ma c'è dietro Berto Sta proprio sul cazzo Ah un giocatore è il parafulmine Il che significa che un fulmine colpirà gli altri giocatori periodicamente Non funzionano così i parafulmine Come no? Credo Tu non metti i parafulmini sul tetto di casa tua per far colpire i vicini ogni tanto Distruggendo il pavimento sotto di loro Il giocatore con il fulmine vince se uccide tutti gli altri Se sono io il fulmine vi batto tutti perché ho studiato La matematica? È la matematica vero Giovanni? Esattamente Chi è il parafulmine? Sono io Ottimo Ha vinto perché è un matematico Dannazione Oh no la matematica ci sta uccidendo No signora matematica non lo faccia per favore Ho moglie e figli No signora matematica si allontani da No non tutti qua deficienti Signora matematica si distanzi dalla mia persona per l'amor di dio Ma chi è che è morto? Io sono caduto giù dritto per dritto Oh no scappa Andrea Oh quando finisce il tempo È così emozionante questo gioco Ciao Giovanni ho vinto io Ciao Giovanni Vabbè dai ho fatto una mia porca figura Ma va aperto pure Ho sbagliato perché mi sono fatto prendere dalla foca Ma la tecnica era dividere in due in quattro in otto in sedici e poi avevo vinto Giovanni non è che un mezzogiornata è per quel minigame Ma adesso posso aprirla di nuovo? No Non avresti comunque Non è che Allora Leo ha 11 di vita Vediamo se faccio più danni io di Andrea No sempre 9 Cosa c'è qua di E? Cosa cazzo era? Era nascosto nella staccolata Giovanni sarà una fan Una fan che voleva abbracciarti Ok ma un po' più gentili per favore Fan Fan se incontrate Giovanni alle fiere Dietro un muretto non usate i denti che c'è il sangue poi Ti prego gioco Ma Leo sei senza chiavi poverino Vado qua mi servono i regali Ah ecco le chiavi che mancavano Giovanni vieni qua che ti gioco il culetto Ho fatto 8 Ho fatto 8 col cazzo che ci arrivi Vieni qua bel bambino Questa qui è la fan delle fan Appena ti trovo basta è andata Che cos'è sto giochetto? Prendi il corona per guadagnare punti Ehm come scusa? Eh niente Come? Furto del corona Colpisci gli altri giocatori per prendergli il corona e impedirgli di riprenderlo Dov'è la corona? Dov'è la corona? Chi è che ha il coronao? Oh io il coronao Picchia il coronao Piatelo Eh vabbè ma io l'ho avuta per pochissimo Guarda i punti come salgono Ma non sogniamoci tra di noi Ah io picchio che cazzo mi becco la mano Io picchio tutti non l'hai capito No ragazzi No no aspetta Cidiamo a camper prima No 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 Si ok prima cidiamo La regola è sempre quella Cidiamo a camper prima E' come nella vita vera Non si picchia Ah se mi avvicinate faccio foto dei compromettenti di voi e le mando in giro Ah scusate corona sbagliato Corona sbagliato Ma Dio Dio Ma Dio Dio E' la super bestemmia delle bestemmie Si Dio Dio Ho vinto io Incredibile Vai con razzo Io aspetto solo di Aspetto che Andrea sia vicino all'ultimo teleport Ciao Leo Per scambiarmi con lui Non mi interessa più vincere Mi interessa solo far perdere Andrea in questa partita Andrea ha 86 chiavi raga Madonna Chiavo un botto zii Quanto sono distante? Poco 5 6 Quindi con un buon lancio ce la posso fare Due E vaffanculo La mia strategia ha avuto gli effetti desiderati Ci sono arrivato Molto bene Apri Olè Giovanni non vuoi avere un'altra spazza con La gruppi di vicino? Ah io faccio così Ma sei andata E' andata dall'altro lato Ah non ti piace Tu sei più solitura preferito Oh 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 Hai cambiato non è più quello di prima Devo fare 1 2 3 4 Ora Oh ok Grazie Gio Ah hai ripagato a farsi uccidere dal Dallo zombone Dal mob si 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 è stata una strat di alto livello 9 Mangiavi tutto Si si Sono io vieni l'autografo si La vota assieme Oh buongiorno dottore Ma quanto è tempo che non la vedevo Buonasera Salve No 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 Aia aia non di nuovo No non l'ha visto Non ci posso credere Si è fermato signori Cos'è sto minigame? Bomberman Bomberman Metti la bomba non devi farti esplodere Devi far esplodere gli altri Ok Avevo imparato a giocarci Oh merda Ho intanto io Mi sono suicidato come un difficile Merda ti odio Ho fatto una monster kill Leo quanti paura hai raccolto? Ah Leo può mettere tutte le bombe che vuole Guarda tutta la mappa prende Sudden death Come funziona? Chi muore muore Ah bombe a caso? No è il primo che muore No è il primo che muore No 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 che significa? Non ho capito lì è stato deciso che muorevate Ha vinto Leo a caso Perché ha vinto Leo? Perché è morto un istante dopo di te Tutti quanti li attrae a dare quel punto No 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 ma mi hanno incassato nelle bombe È stato camper Vabbè Ha 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 Mi tocco Ho fatto la tripla Ho fatto la tripla Io non sono morto Ma a buttare Secondo Ha 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 La tripla è stata notevole Da posto No 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 È troppo bella sta animazione Oh nooo Bertha c'ha la power move Povero Leo Mi dispiace Vai tanto ormai tanto Traiardiamo sul più forte Ciao Leo Bullismo No Leo vuole solo farti assaggiare i trofei come li ho assaggiati io Il cochi vuole farti assaggiare Ah sì io ho già tirato e non posso più fare nulla Ah allora era una power move È vero Che oggetti ci sono? Niente Niente Oh adesso ho un oggetto Ah no nemmeno Mi sono curato e basta Eh io rinuncio Alla mia umanità Giorgio Cosa Per Attenzione Giovanni la inta Giovanni decide di riprendere vita rinunciando alla sua immortalità Non è una grande mossa E la perde subito dopo Vabbè Attenzione Buona carne di cavallo Povero Leo Attenzione Rissa nel granaio 1v1 granaio Bertha ha giocato CSGO e soffer forte in questo giochino di merda Ma in realtà neanche tanto perché è troppo sensibile Diciamo che c'è la sensibilità che è infinita sto gioco Bertha puoi darti una calmata per favore non è che se fai tutte le kill sei più simpatico Papà petecappre Io voto il kick per Bertha come sul CSGO no? Il kickatelo è hack Io non riesco a prendere manco il fucile Faccio un 360 boom cambio arma boom e sparo No! No! Cazzo Vabbè 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 So close Vuoi farmi veramente dieci danni? Sì Inizio pian pianino Giovanni la tua carriera da apicoltore finisce qua mi spiace Allora come al solito non ho niente nell'inventario tanto per cambiare Sai dove è finito il tuo inventario? Nei miei denti Oh fuck 3 Ce l'avamo Tu devi smetterla di prendere tutti questi... Prendi chiavi, prendi vita, porca puttana Se le hai fatte così le chiavi lui Eh sì Oh 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 Non compro nulla Puro, 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 puro Cos'è sta roba? Oddio questo è usceno Guarda sta schifo Fa cagare Dai passate di qua che vi spon... L'ho capito scusa Che dov'è che dov'am fare? Ma dai ma raga ma... Ma fa schifo sto gioco È usceno, è uscenissimo È bruttissimo Vi facciamo vedere chi ha vinto alla fine raga, ciao Ha vinto? Si ha vinto tu Yeee Ma come quarto anche adesso, eh che cazzo Me lanzana Me lanzana, me lanzana Falla saltare, falla saltare sulla barra Ta 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 Boom Puff 9 Si vieni vicino al mostro grazie Mi sa che vai dal mostro tu Leo adesso Leo non ha pensato bene Ma le conseguenze Bravo Leo Che si che ne sai Che figlio della madre Potevo scegliere tra undici morti differenti Io I'm gonna do what's called a pro gamer move Bravo Giovanni Io non ho fatto una pro gamer move Vai dritto nelle ginocchia del mostro Ma servono le chiavi Oh, it's my time And it's now or never Uccidi camper, uccidi camper Potrei shottare camper Ma non voglio lasciarlo al mostro sai Ok Tu sei Bertra Sei il verzo il noob Quattro Aspetta il mio inventario è ancora vuoto Oh, sì, gli sei andato negli occhi Va bene così, va bene così Prendo questo Oh, lo scelto Scusate Dov'è il laser? Dov'è il gigalaser fotonico? Lo so Hai un bellissimo bastone Oh, oh Eh, guardi, non compro nulla Sto bene così Knock knock FBI open up Guarda che flexa pure quando ti uccide Secondo me vince lui Oh no Pong de Noartry Merda, le ho prese tutte Io le palle Ok Guardo È un fenomeno Mamma mia Giovanni e tutte le sue palle Avete preso qualche gol voi o no? Uno sì Ma fatemi una cazzo di vita brutti Raga sono troppe Non riesco a computare Dai, basta Quelle bianche non le vedi? Quelle bianche sono mie Ma come funzioni? Io non ho capito Chi ha vinto? Ho vinto io Ma perché? Secondo? Ma perché? Quando? Cosa? Ma come funziona? Faccio il giretto Leo fa la rotatoria otto volte Lo sembra un po' quegli anziani Che non sanno bene che è uscito a uscire In rotatori e continuano a fare Sì, andate verso il mostro Andate, andate Andrei quella l'unica Devi vedere che te è No 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 Non avete capito Io adesso finalmente uso Bastone Leggi cosa fa il bastone Bastone dell'evocazione oscura Evoca un demone amico Che perlostra la mappa Uccidendo i tuoi nemici Figo Evocalo Demone 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 La madonna Vai il diavolo Il diavolo Il diavolo Bello Il diavolo Wow Non sto capendo E' il demone lui? Ma è un coniglio Ma i Blacks Bunny Stracattivo sto demone Basta prendere sti cosi Chiavi, chiavi Sono uno strozzino io Hai il monopolio delle chiavi Sulle caselle della mappa Raga io ho giocato tutta la parità lontano da voi Mi spiace Sei triste La palla è nostra e tu Giovanni vai a giocare per i cavoli tuoi Che bucio Lui scappa sempre dal mostro all'ultimo Incredibile Ha un talento Dona un po' di chiavi ad Andrea Ammi le chiavi Si 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 Basta Basta Da chi viene adesso? Oh god Oh fuck Da noi Da dove vuoi che venga Signore si allontani gentilmente Oh Coniglio Oh il coniglietto Avete il coniglio E il mostro che vi chiudono Si siamo in mezzo Leo Questo non è piacevole Giovanni Sai che prima hai detto che non giocavi mai vicino a noi Che ne dici di fare un piccolo scambino dopo? No Leo No son caduto come uno scemo Leo cacciamo tutto vai Siamo amici No Oh Oh fuck godo godo Faxi Eh niente sono andato io No Casa mia casa mia per piccina che tu ho vinto Ma uffa Camper 2020 ma uffa Allora qual è il piano? Qual è il cazzo di piano? Il mestiere Leo Vai tira 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 vai verso il mostro Sì più vicino vai verso il mostro Sì A tutto gas Ciao Leo vieni con me tu Ciao mostro I'm fast as fuck boy Oh quante chiavi hai preso Eh vabbè Vabbè la smurfata Signori Noo Noo il gioco ma ninja Noo Ehi ciao Ma è demonetizzato Sono fidanzato Lasciatemi in pace Uh Succhia 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 Oh il missile Hai preso il razzo E un po' di chiavi Cazzo le chiavi Ah godo Non puoi non puoi più fare quello che so che volevi fare Volevo teletrasportare al posto tuo Lo so Rifai la rotatoria Sapete che c'è vado di qua Caro hai sbagliato uscita Ah dannazione Devo fare proprio il giro Mmm Ma dai due di teleport Ha pure il regalo Madonna santa E usa il cactus Perché è stupido Tanto tutta quella bella robina Non la userei più Perché poi Bertra Bertra chiude il prossimo giro Beh contiamo Bertra Adesso c'era la chance Per boicottare Bertra col teleport Tipo io posso usare un alveare No cioè ma non lo fai l'apicoltore Te l'ho già detto Leo l'hai vintata A me interessava che non vincessi te Era questo lo scopo del mio gioco Che sono felice Perfetto Ho il cactus No Ah E' inutile che fa i ballotelli Oh il coniglio Io sarei curioso del coniglio E dei suoi poteri Ma che serve sto coniglio Si può sapere Inutile Cos'è sta roba Questi qui sono i giochini Che giocano i coreani Nelle parite di Esatto Epilettico E come si salta con lo spazio Con lo spazio Con la x Ma è difficilissimo Ma c'è il doppio salto Si Ah ma dirlo che c'è il doppio salto Ma ho perso tre quattro vite Perché non so che ci fosse il doppio salto Pure io Vaffanculo No porco di Anch'io Bella fra Si ma Non mi avete detto che c'era il doppio salto Bonito Ho un cascato Ho un cascato Ok Si Si Le api di merda Attenzione Power move di Leo Non è una gran power move Io mi muovo dopo di lui Ciao zombie C'è sei Sono nuovo arrivato Che posso fare Razzo Ah no ma Razzo fai la rotatoria Eh vabbè Comunque Di avanti c'è la rotatoria No 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 E si trasformò in un cactus Ciao coniglio Inutile il cazzo Ti faccio arrossa la prossima volta Leo Eh Ok Era gratuito lo so Ciao No Dovresti salvarti No non ti salvi Non credo Nel frattempo Giovanni che si fa i cazzi suoi Be like Oh oh no No È arrivato il big boy Grazie Niente No 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 Questo È quello che vorrei fare ai tuoi papagalli Il coniglio Eccolo Uccidi i camper Guardalo che cucciolo mi segue Dentro camper Ciao Ah snake Madonna quanto silenzio Ragazzi non avete capito Riuscite quasi a sentire il mare se siamo ancora un po' più silenziosi Merda Siamo a trento Dio 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 Eh non era facile la situazione Carabinieri Porco di Ah ce l'abbiamo fatta Altruma dei carabinieri Stupidi Cazzi piccoli Godoleo Godoleo Come un maiale Le ho girato la parte sbagliata Vediamo un po' Se uso il tp Secondo voi ci arrivo no eh Secondo me no perché il tp non triggera le cose quando ci arrivi C'hai ragione Allora razzo Raga ma lo investe il mostro Lo investe Si 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 No 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 Ok no Devo fare Almeno tre Dai dai Oh Vabbè Ciao Apri Eeeh Complimenti Bravo E si conclude Questa partita Si conclude Con il coniglio che non ha fatto niente per tutto il game Vediamo un po' Premi pammel Ma perché quelli nel pubblico sono tutti giovanni? Vero Vero Danni inflitti di più Grazie Grazie Ragazzi ha fatti chiaramente il mostro Chiavi ottenute di più Sempre me Campe Bravo Grazie Grazie Minigiochi vinti di più Bert Leo 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 Ho un trofeo Incredibile Danni ricevuti di più c'è anche questo trofeo Leo Beh giustamente Ho due trofei Attenzione raga vince Leo tra un attimo Minigiochi persi di più Oh no Io Eccolo Bello il mio punto No raga sono io nella gabbia così Nooo Gioco di merda Attenzione Per la prima volta Vinco a pommel party Oh Essendo io un pappagallo sono nel mio luogo corretto Ah tu? Io sono terzo Io ringrazio Leo e Bert per aver partecipato a questo video Sì sì per avermi menato E quello che non posso fare in real life lo faccio nel gioco Leo Ti rubo tutte le chiavi di casa appena ti vedo Così giusto per Ok Arriva col magnete e vedi le chiavi di casa di Andrea che gli escono dalle tasche Direi che per oggi possa bastare dal camper Da Spawn È tutto Noi ci vediamo Dove quando come? Come? Ma con un prossimo video